Salve ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Siamo tornati con le tre vite su un gioco che non ho mai giocato Solo ho visto tanti video E quindi adesso capiamo Cosa Oh Cosa vuole questo? Ok così così la merama visuale va bene Oh Allora così con la x tiro le galline Mi sono Sono stati loro? Sì Ok posso rollare Che cosa è successo? Ma perché c'è questa zona? Io non me la ricordo eh Sarà una sottospecie di tutorial Fatemi andare un attimo avanti Così intanto vedo anche i comandi e poi Parte la sfida delle tre vite Che qua se no È un casino Mi ricordavo che c'era anche un Una sorta di dash in volo però Non riesco a farlo va bene Fa lo stesso Però volevo vedere un attimo una cosa Back to menu Poi non vedrete niente però Forse è challenge mod Eccolo ci siamo Challenge mod volevo fare Ecco perché era tutto sbagliato Ora Puoi iniziare la sfida delle tre vite Ho aggiornato Adesso abbiamo il counter Adesso abbiamo il counter Fisico Cioè fisico Vero che Quando muoio Clicco Una combinazione di tasti E si abbassa Ora intanto Voglio vedere se riesco a fare roll Ok con y Lo faccio Perfetto Con x Così E così roll Perfetto Allora senza cadere Scuto di roll Facciamo che è una prova No No perché io sono corretto Quindi Calata la prima vita subito Tutto 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 Allora Eeeh Ok Ok dai Cerchiamo di farlo durare un po' Oddio La fisica in questo gioco È qualcosa di incredibile Va capita Va capita Allora Potrei Però visto che è la prima volta Che ci gioco Vorrei Un attimino Capire Siamo già una vita Eeeh La cosa mi preoccupa assai Mi preoccupa assai Perché Potrebbe essere uno dei video più corti E devo andare più rilassato Perché qua è un casino Forse ci conviene fare Quell'altra via Prova un attimo Capita l'altra via Allora noi saliamo qua E come facciamo a salire Ci vediamo in un prossimo video Ciao ragazzi Eeeh È stato bello Ma il counter è sceso a zero Quindi Ci salutiamo Lasciate like se vi è piaciuto Eccetera Ciao ragazzi Ciao ragazzi